Anna, che fai lì tutta sola e triste? Dobbiamo prepararci. Ehi, Gioia, prepararci per cosa? È fino aprile. Domenica ci sarà il volo di primavera. Ormai manca poco. Gioia, ma lo sai che... Eh no, adesso Anna non inventarti scuse. Che è brutto tempo, che è troppo lontano, che soffri mal di pullman. Ma non ti ricordi che quest'anno non ci possiamo andare al volo di primavera per colpa di quel brutto virus? Ah, ma sai che ci possiamo andare? Basta che stiamo tutta da un metro di distanza, dai. No, Gioia, non basta. Quest'anno proprio niente volo di primavera. Ehi, ciao. Dov'è che andiamo di bello? Dov'è che non andiamo? Camilla, non andiamo al volo di primavera. Ah, ma cos'è il volo di primavera? Ah, è vero Camilla, tu non ci sei ancora mai andata. È un'uscita con tante, anzi, tantissime coccinelle da conoscere per passare una giornata nella natura, giocando con tanta gioia, cantando, imparando tante cose nuove con tutte le coccinelle del distretto. Ma che bello, che peccato non poter andare. Aspetta, aspetta, ma che cos'è ora il distretto? Tante coccinelle come noi, che vengono da tanti altri cerchi. Guarda bene così. In questo volo scoprirai che è meraviglioso il mondo che ti circonda, ma quanta gioia c'è intorno a te. È meraviglioso questo viaggio insieme. Ciao coccinelle, come state? Sicuramente qualcuna di voi si sta chiedendo chi sono. Vi faccio vedere le mie barrette. Sono Sara, l'incaricata di distretto della Branca Coccinelle. Come avete visto il nostro distretto, precisamente il distretto di Frosinone, è molto molto pieno di coccinelle. Siamo veramente tante. E come avete visto sempre dal video, domenica dobbiamo vederci per passare una giornata tutte insieme. Però attualmente non si può. Sicuramente avremo più in là modo di conoscerci tutte personalmente, di giocare, di divertirci tutte insieme. Però, per il momento, vi voglio fare un regalo. Non solo io. Più di qualche persona vi vuole fare un regalo. Quindi continuate a guardare il video perché c'è una sorpresa tutta per voi. Sento la gioia, 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 sento la gioia, 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 dentro il mio cuore. Sento la gioia. Perché credo nella vita, perché spero ogni mattina di iniziare il giorno con amore. Perché so che nel mio cuore non esiste il rancore, prego per la pace e per l'amore. Perché so che nel mio cuore non esiste il rancore, prego per la pace e per l'amore. Sento la gioia, 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 sento la gioia, 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 dentro il mio cuore. Sento la gioia. Sento la gioia, 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 sento la gioia, 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 dentro il mio cuore. Sento la gioia. Perché vivo nel presente e condivido con la gente Il mio canto, i sogni e la speranza Perché vivo nel presente e condivido con la gente Il mio canto, i sogni e la speranza Perché credo nella vita, perché spero ogni mattina Di iniziare il giorno con amore Perché credo nella vita, perché spero ogni mattina Perché vivo nel presente e condivido con la gente Che vero nel presente e condivido con la gente Ritarra a dentro e muro Che vero nel presente e mi mamà Il mio canto, i sogni e di un ombro Sento la gioia Eccomi di nuovo, avete capito qual è il regalo? Tutte le vostre capocerchio si sono impegnate per farvi arrivare un pochino della loro gioia anche se lontane, ma come ormai ben sapete la gioia è ancora più grande se condivisa e quindi ho un invito, anzi un appuntamento da darvi, molto molto importante, ma ho bisogno di alcuni aiutanti, quindi continuate a guardare per scoprire che invito è. Domenica 26 aprile, alle ore 10, sul canale TV 94, oppure sulla pagina Facebook della diocesi di Frosinone, il nostro Vescovo Ambrogio. Cerebrerà la Santa Messa Per tutti noi scout Invitate anche tutta la vostra famiglia Così sembrerà di stare tutti insieme Non perdetevi questo appuntamento Tutto chiaro coccinelle? Quindi mi raccomando non mancate a questo appuntamento molto speciale dedicato proprio a tutte quante noi scout del distretto di Frosinone. Io intanto vi saluto, spero di vederci molto molto presto e di conoscerci con tutte di persona. Buon volo! Grazie a tutti!